Un saluto alla comunità E-Twinning dal 30esimo Giuseppe Parini, circolo didattico nel cuore del quartiere di Secondigliano, quartiere della periferia nord, estrema periferia nord della città di Napoli. Io sono Chiara Stella Serrato, dirigo questa scuola in un territorio escluso e deprivato e come tanti come me affrontiamo quotidianamente la sfida di garantire ai circa mille alunni di oggi la possibilità di diventare cittadini attivi, consapevoli e competenti per il futuro, per il difficile futuro del domani. Si tratta quindi di costruire quotidianamente una scuola aperta, accogliente, inclusiva in cui vengono accolti tutti i linguaggi, tutte le modalità di apprendere, tutte le ricchezze di ciascuno dei nostri piccoli alunni e di dare loro la possibilità di acquisire competenze significative e valevoli per tutto l'arco della vita, in grado appunto di garantire la possibilità di affrontare le trasformazioni, le veloci trasformazioni della nostra società e di vivere e esercitare una cittadinanza attiva, partecipe e libera. Per fare questo c'è bisogno di costruire intorno a loro contesti e ambienti di apprendimento in cui si possono appunto esercitare esperienze autentiche e significative e ambienti per l'apprendimento, ambienti per apprendere in modo collaborativo e operativo. TwinSpace, la classe virtuale all'interno della piattaforma Twinning, rappresenta per l'appunto un ambiente per l'apprendimento autentico e per sua natura in grado di consentire metodologie didattiche basate sulla collaborazione e sull'operatività, sulla relazione, sul confronto e sulla socialità. Il Twinning significa appunto gemellaggio, entrare in relazione, costruire insieme, condividere, costruire competenze che siano disciplinari ma siano anche quelle competenze trasversali e sociali che mettono in gioco tutti gli aspetti anche emotivi della personalità. Una didattica fortemente motivante perché è basata sulla realizzazione di progetti task based, basata sulla multimedialità, quindi sull'accoglienza di tutti i media e di tutti i codici, non solo quello verbale ma anche quello iconico e tutti i codici che si possono basare su delle tecnologie innovative, quindi ambienti digitali, strumenti digitali utilizzati in maniera consapevole per non nocere né a se stessi né agli altri e per ottimizzare, cogliere tutte le grandi opportunità che il mondo virtuale oggi offre. Metodologie innovative, operative e soprattutto esperienze significative e motivanti. Questa è la classe virtuale, il Twin Space. Accanto ad essa la grande comunità di docenti che si confronta e cresce, e cresce professionalmente attraverso uno scambio fecondo, attraverso l'utilizzo appunto di un ambiente che per sua natura costringe a confrontarsi con le tecnologie, costringe a utilizzare, a vivere, agire il mondo digitale, ma agirlo in un orizzonte pedagogico e sociale che è quello appunto basato sulla collaborazione e non sull'individualismo e quindi fare entrare la tecnologia della scuola all'interno di una di una didattica appunto basata su questi paradigmi culturali. Quindi far entrare la progettazione degli twinning nella scuola consente di mettere a disposizione un ambiente assolutamente protetto in cui si sperimentano tutte le potenzialità del mondo digitale per rafforzare, potenziare, costruire competenze, cioè significa conoscenze e abilità che possono essere utilizzate in maniera consapevole e autonome per affrontare i problemi nuovi e sempre diversi che il nuovo mondo, il ventunesimo secolo, ci mette di fronte. Buoni twinning e buona vita a tutti!